buongiorno a tutti amici caravan langhe allora sono come al solito analisa nuovo video nuovo usato questa volta vediamo insieme direttamente eccoci qui all'interno di questo chasson è uno chasson welcome 28 del 2006 è un veicolo su meccanica ford 2004 di cilindrata 140 cavalli ea 30 34 mila chilometri quindi veramente veramente pochi chilometri unico proprietario ed è un volevo farvelo vedere perché è in super offerta 24 mila euro con la nostra polizza auto facile italia quindi una polizza di un anno di garanzia inclusa nel prezzo è un veicolo che dato come al solito tagliandato la intraprende bollo anche pagato di recente e revisionato quindi pronto proprio a partire gli accessori che ha compresi questo veicolo sono la veranda pannello salare doppio osservato dell'acqua grigia dell'acqua chiara sospensione d'aria e piedini stazionamento è possibile anche fare un finanziamento con un tasso super a genovolato fino ai 120 fino ai 120 mesi quindi fino ai 10 anni soprattutto per il finanziamento vi rimando il nostro numero di whatsapp che veramente sempre qua per se avete bisogno informazioni anche per preventivi finanziamenti altri non c'è problema questa tipologia di mezzo è perfetta per le famiglie o anche per la coppia che ha bisogno di un po più di spazio è dotato di due letti matrimoniali un anteriore uno posteriore con ovviamente garage posteriore e un altro ha letto altri due posti letto che si ottengono dalla dalla dinette però omologato cinque posti a viaggiare però una questione di pesi perché un veicolo comunque di una certa importanza come misura un mezzo che ha una lunghezza di 7 metri 14 quindi appunto un mezzo abbastanza lungo però diciamo fattibile non è non è enorme però lo vediamo insieme internamente perché ha una bellissima anche vivibilità considerando appunto la tipologia anche perché sapete il mansardato vi dà gioie soprattutto in quanto riguarda i mobili che è una cosa che noi donne vediamo e ci teniamo particolarmente quindi vediamo insieme partiamo ovviamente da secondo me la cosa indispensabile parlando di mezzi per le famiglie e cioè la dinette questo camper è dotato di una bella dinette perché ha due poste sedere nel divano fronte marcia e altro un altro divanetto che appunto amplifica lo spazio in dinette sendo mansardate appunto vediamo anche sopra diversi armadietti il tavolo si può anche allungare questa è una posizione diciamo da viaggio ma c'è la possibilità di ampliarlo ulteriormente in modo che comunque un post in cinque persone si mangia tranquillamente ma anche volendo in sei sopra alla cabina troviamo il letto matrimoniale della mansarda dotato di finestra e di oblò molto ampio e quindi non è per non è soffocante armadietti veniamo alla parte posteriore cucina a l una bella cucina l con un bel piano d'appoggio tre fuochi ben separati guardate quel bello spazio che non è per niente da sottovalutare soprattutto perché a chi piace magari star sul camper vivere proprio il camper lo spazio in cucina è molto utile anche qui troviamo due armadietti sopra e degli armadietti qua tra cui un bel piano altro per le pentole soprattutto questi bassi sono molto comodi per posizionare le pentole in modo che non non facciano danni diciamola così frigo grande la preferito da quasi tutte le famiglie italiane e un frigo con un freezer integrato eccolo qua qua c'è la sua celletta frutti è un freezer non c'è un frigo trivalente quindi avete le tre possibili diciamo le tre possibili alimentazione gas 12 volt 220 un altro bel mobiletto insieme all armadio guardate quanto spazio da mettere da mettere cose lì eccolo qua il letto letto posteriore un letto posteriore matrimoniale con due belle finestre che quindi consideriamo quasi abbia le luci accese ma siamo sotto un tunnel quindi la luce manca parecchio invece queste due finestre qua rendono tutto più più arioso quindi soprattutto d'estate mi daranno non creano una bella corrente è un letto anche molto vivibile non è esageratamente alto infatti anche il garage non è altissimo a differenza del blue camp che vi metto il link al video dopo che ha ovviamente un garage molto alto e quindi il letto sopra risulta un pochino un po più po più basso qua sotto troviamo l'accesso al garage come vi ho fatto vedere nel video prima infatti da questa portina qua possa entrare direttamente nel garage noi troviamo altri mobiletti da utilizzare da magari da mettere dell'acqua da mettere delle cose che non c'è caso che abbiamo nell'abitacolo però devono essere vicine facili diciamo da andare a prendere il tutto questo è chiuso dalla porticina così diciamo che in posizione normale vediamo il bagno il bagno un bagno con la doccia separata qui troviamo un bel lavandino con la sua bella finestra e il mobiletto anche qui abbiamo lo spazio e dall'altra il bagno è dotato anche nello blu quindi c'è sia la finestra sia lo blu molto bello anche le rifiniture fatte e la porticina una porta in plexiglass non alla la tenda famosa tenda ecco questo un'idea di bagno perfetto per i bambini per il fatto che io mettendo un diciamo l'asciugamano qua davanti evito che si bagni l'impossibile quindi sono anche anche più facile da da pulire da mantenere e tutto il resto altra cosa la mansarda con questo letto tirato su vi dà la possibilità di non sbattere la testa tutte le volte che si va alla guida dalla guida alla cabina che è decisamente molto comodo allora in tanti mi chiedono la differenza tra una dinette come questa che una dinette chiamata avanzata perché se vedete la si sfruttano i sedili della cabina o la dinette quella classica da 4 cosa cambia ne pro e contro allora sicuramente un pro della dinette quella classica quella 4 e che per chi soprattutto per chi va in montagna posso dividere la cabina perché posso dividere la cabina e quindi divido la parte più fredda del camper perché ovviamente la zona giorno è più calda rispetto alla zona cabina quindi va bene metterli oscuranti termici va bene tutto però ovviamente sarà sicuramente un pochino un po più fredda rispetto alla parte posteriore coibentata costruita dalla casa con la dalla casa in questo caso la show son questa dinette qua permette ad avere dei posti in più perché sfruttando appunto la cabina ovviamente c'è un po di spazio in più rispetto all'altra quindi dipende anche lì molto dalla tipologia di viaggio dipende molto una cosa molto personale come dico anche a prescindere la scelta del camper una scelta molto personale perché a una per una persona ha bisogno di una cosa l'altra persona l'altra famiglia altre necessità quindi vanno bene consigli sono molto utili ma cercate il camper che va bene per voi non andate tante volte ascoltare troppa gente vi crea solo confusione provate piuttosto noleggiare i noleggi vi aiuteranno anche a scegliere il camper più giusto per la vostra famiglia e sarà un po di spesa va bene ma sbagliare un acquisto di un camper forse forse non è non è così conveniente quindi tra parentesi anche noi facciamo noleggio come alcuni nostri clienti ben sanno se avete bisogno di preventivi o altro trovate comunque sempre tutto sul nostro sito sempre www.cravanlang.it e anche delle informazioni del noleggio quindi se vi può interessare potete dargli un'occhiata e invece un veicolo che è in offerta senza ritiro di permuta a 24 mila uscirà breve la data del nostro porta aperte facciamo sempre un porta aperte un'apertura domenicale la domenica mi pare che sia il 4 5 di aprile comunque inizio di aprile ma seguiteci così saprete la data esatta e cosa cosa faremo stiamo un po studiando le varie cose che possiamo fare comunque dovrei avervi detto tutto se c'è qualcosa che avete bisogno non esitate chiedermi metto sempre numeri di whatsapp indirizzo email c'è tutto anche nell'info box qua sotto non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per ricevere le notifiche quando uscirà un altro video di mezzi nuovi usati e tutto il resto ci vediamo sui social ci vediamo qua in azienda alla prossima ciao ciao